Chi-sha Vuota il centro verso destra, gira sul talone Passo frontale Vuota 45 Pau-chiao, prende un pallone Pau-chiao, destra Vuota il centro destra Poi ruota il centro sinistra Finisce le mani, prende An Centro avanza Mani swing Piano piano Meggero Controllo bene il vuoto Passo Ritorno Sollevare i mani 30 gradi diagonale destra L'aerone spiega le armi L'aerone spiega le armi Tutto bene L'aerone spiega le armi L'aerone spiega le armi L'aerone spiega le armi Centro avanza, vuota il piede destro Centro avanza Cioi Pia Tre passi Non scia Contro il vuoto Passo destro Cioi Pau Ancora una volta Vuota il centro Voto Ritorno Sioi Pipa Ancora una volta L'aerone spiega le armi L'aerone spiega le armi Pugno Verticare Voto Passo parato Controlla bene Vuoto Cioi Pugno L'aerone spiega le armi L'aerone spiega le armi Controlla Giù braccio sinistro Ruota sul tallone sinistro Diagonale dietro 45 gradi Pugno L'aerone spiega le armi Pugno Preparato Pugno 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 Centro ruota, centro ruota, spazzare, parata, infila bene mano sinistra, pugno sotto il corpo, centro ruota, passo lì indietro, facciamo solo tre passi, normalmente sono cinque, facciamo tre passi, respinge, leggero, controllo in vuoto, prendo un pallone, calcio, volo oblicuo, mezzo passo, sollevarlo molto, giù, hai scogliato, c'è il pallone bianco, spiega lì,